decisamente rivolto nei confronti di Youngstack è la sua potenziale eccoli qua partiti in vantaggio Massimo Meridio davanti a Fabio Massimo Bella delle Viole Blue Fall Spirit Vicky e il triplete Youngstack mentre segue staccatissimo Foxy Freddy dopo 300 metri di corsa passa Fabio Massimo davanti a Blue Fall Bella delle Viole Massimo Meridio e il triplete Spirit Vicky e Youngstack all'inizio della curva in leggero vantaggio Blue Fall davanti a Bella delle Viole Fabio Massimo e il triplete Massimo Meridio Youngstack e Spirit Vicky poco prima dell'ingresso addirittura in vantaggio Blue Fall davanti a Bella delle Viole Fabio Massimo e Spirit Vicky i cavalli entrano indirittura con Blue Fall in vantaggio davanti a il triplete Youngstack Massimo Meridio Spirit Vicky Fabio Massimo in vantaggio Blue Fall davanti a il triplete Youngstack a centro pista Fabio Massimo passa Youngstack davanti a il triplete Fabio Massimo e Blue Fall e in leggero vantaggio e il triplete attaccato all'esterno da Youngstack che Grazie. Grazie.